Gentili telespettatori, buona giornata. Minzolini accusa Conte di essere il pifferaio del superbonus che fa la morale agli altri. Superbonus arrivato a oltre 200 miliardi, più del PNRR. Ma Conte lui ha già scaricato il superbonus. Lui dice io ho fatto partire il superbonus ma poi non sono stato più premier nel senso che lui dice gli altri avrebbero dovuto fermarlo. Io non ero più premier, quindi io ho avviato il superbonus e il superbonus doveva essere una cosa temporanea. Solo che, pensate un po', dimentica un qualcosa il nostro caro Giuseppe. Giuseppe dimentica una cosa, che quando lui è andato a governare con Draghi, quindi era premier Draghi e Conte dice colpa sua, no? Poi alla fine. Il fatto è che Draghi non cancellò il superbonus perché se avesse cancellato il superbonus, come il reddito di cittadinanza, i grillini avrebbero fatto cadere il governo perché per loro il superbonus era la panacea di tutti i mali, era la medicina. Sapete che il livello dei grillini, insomma, è quello. Non sanno niente di niente e pontificano. Quindi non avevano capito. Io ricordo bene i commenti non è vero, il superbonus porta più effetti positivi che negativi, non è vero. Ecco, c'erano dei battaglioni delle intere armate di grillini che, non sapendo nulla di economia, zero assoluto, pontificavano sul superbonus, no? Me li ricordo bene, no? Non è vero! È tutto falso! Ma non ve li ricordate? È tutto falso! E invece i grillini dicevano tutto falso e i professori di economia come me vi dicevano tutto falso vedrete che disastro perché la casa gratis esiste solo nelle fiabe la ristrutturazione gratis qualcuno dovrà pagarla e le truffe le avevo viste anch'io ecco, passeggiando per Ostia con un amico, un amico mi dice guarda quel palazzo lì, Upalazzuna, dico bel palazzo mi dice guarda lì ci vivono i miei genitori, pensa un po' avevano appena cambiato le finestre, finestre nuove, doppi vetri, nuove, nuove, nuove poi è arrivato il superbonus e l'impresa gli ha detto dai, cambiamo di nuovo tutte le finestre ma hanno un mese queste finestre non vi preoccupate, le cambiamo così le avete nuove di qualche giorno e così per esempio in questo caso di truffa allo Stato vennero cambiate le finestre e quelle appena installate sono state staccate e rivendute in un mercato parallelo ecco per esempio questo è un esempio di una truffa sulle finestre allo Stato di tutto un palazzo ma immaginate quanti soldi sono le finestre di tutto un palazzo doppi vetri, nuove ecco, quindi io ve l'avevo detto che il superbonus era una cosa che non si poteva ascoltare che solo gente che non conosce nulla di economia poteva continuare a portare avanti Draghi dice ma come il grande economista? il grande economista lo sapeva perfettamente non vi ricordate che in Parlamento l'aveva proprio detto che il superbonus era una cosa che non andava bene e fatta pure male solo che non la cancellò mai perché se avesse cancellato il superbonus i grillini avrebbero fatto cadere il governo quindi quando Conte, come dice Minzolini, il pifferaio del superbonus dice che lui ha fatto il superbonus ma poi non era più premier erano altri che l'hanno mandato avanti è vero che gli altri l'hanno mandato avanti ma l'hanno mandato avanti perché se non l'avessero mandato avanti i grillini avrebbero fatto cadere il governo perché per loro il superbonus era l'invenzione del secolo avrebbero dovuto dare il premio Nobel ecco, premio Nobel a Gigino Di Maio per il reddito di cittadinanza e il premio Nobel a Conte per il superbonus delle genialate senza precedenti in realtà sono state e sono quello che abbiamo visto il superbonus con oltre 200 miliardi di spesa è stata la legge peggiore di tutta la Repubblica Italiana dalla nascita della Repubblica Italiana e così adesso Conte, pifferaio del superbonus dice, io non c'entro niente, io l'ho ideato era una roba da fare per qualche mese per dare un impulso all'economia poi gli altri l'hanno tenuto per anni e guardate che ne parlavano tutti bene del superbonus basta guardare le interviste tutti lo davano il superbonus tutti 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 dal primo all'ultimo tutti non è vero è vero, è vero guardatevi un po' le interviste tutti volevano il superbonus infatti il superbonus è ancora vigente il superbonus è ancora vigente è ancora vigente i 200 e passa miliardi sono da pagare perché il superbonus ancora c'è eh? sveglia il superbonus ancora c'è nessuno l'ha mai cancellato perché poverino quello c'ha il palazzo sventrato e la famiglia lì dorme in cantina perché aveva la ristrutturazione gratis quelli avevano il condominio gratis adesso se devono pagare i soldi i soldi non ce li hanno quindi la maggior parte della gente non aveva i soldi per rifarsi la casa o il condominio era gratis hanno cominciato a sventrare la casa e il condominio sono rimasti a metà adesso l'impresa dice dovete pagarci voi quelli che non hanno i soldi manco per piangere ma cosa paghiamo? ecco quindi vi dico una cosa la prossima volta che ci sarà lo Stato che vi dice andate tipo la fornero andate in pensione sei anni prima non vi preoccupate rifatevi la casa non vi preoccupate non credete allo Stato non credete ai governi che vi dicono che ti puoi rifare la casa gratis che ti comprano la macchina gratis che andate in pensione vent'anni prima non vi preoccupate non credete non ci credete sono tutte balle poi cambia il governo passano due mesi i soldi non ci sono e vi mettono in mezzo a una strada quello che succede adesso con il super bonus con migliaia e migliaia non so quante sono esattamente di persone in mezzo a una strada senza più neanche una casa perché la casa è completamente sventrata perché doveva essere rifatta gratis con i soldi di un'Italia indebitata fino qua ecco l'Italia indebitata fino qua vi faceva la casa gratis diciamo che i politici ce la stanno mettendo tutta per portare l'Italia al fallimento non può fallire l'Italia poi ci sono sempre gli esperti di economia che non sanno niente di l'Italia non può fallire ma chi ma lasciamo perdere va arrivederci a tutti e grazie grazie grazie